Guarda un momento, guarda qui, credo che c'è qualcuno contro la squadra, non lo capiscono, non lo credo, ma quanto io ne ho dato? Sì, voglio, ho questo controllo, ok, ti ammazzarlo, ti ammazzarlo, ti ammazzarlo, ma come passa perché è uno specchio? Dico che sto giro ammazzo, o finisco? Mi assomigliava da morire, sì, stanno passando lì dietro, stanno cercando il guado, they're looking for the cross, yeah, they're looking to somewhere to cross, or somewhere to dai rimbambito ancora ne hai capito